A Padova da 12 anni è presente la Culla per la vita, uno sportello in via San Massimo vicino all'ospedale dove i genitori in difficoltà possono lasciare alle cure dei medici i neonati. Questo è uno sportello, una sorta di bancomat che si apre delle porte in cui si può lasciare il bambino ma nel momento che ciò avviene scatta un allarme per un'equipe medica pronta ad intervenire, a prendersi cura del bambino in qualunque condizione esso sia. Per cui quei pochissimi casi che abbiamo avuto sono tutti risolti positivamente per il bambino a breve termine. Il lungo termine forse è qualcosa che sarà da rivedere. In questi anni la Culla per la vita è stata utilizzata solo una volta, l'attenzione resta comunque alta. Purtroppo gli eventi di cronaca esaltano i fenomini e sembrano rendere più eclatanti di quante realtà non siano. Credo che il dato di fatto è che è un evento rarissimo fortunatamente, che ancora questa nostra società, struttura sociale, fa sì che situazioni di abbandono come in passato, nei secoli avvenivano, siano veramente fenomeni rari. Lo leggerei così e non solo perché la gente non sa che sia questo. No, non credo. È un evento fortunatamente raro nella nostra società. La Culla della vita resta uno degli strumenti che la sanità pubblica offre alle donne che non vogliono o non possono crescere il neonato garantendo comunque sempre l'anonimato. Là dove c'è una gravidanza tra virgolette indesiderata portata a termine c'è la possibilità appunto di venire in ospedale, di partorire in perfetto appunto anonimato se si vuole entrare nei nostri reparti oppure c'è anche questa possibilità della Culla per la vita che si trova qui a Padova in via San Massimo.